Inquinamento ambientale è norma estingente dal Parlamento. Il Parlamento ha approvato con modifiche il Decreto Legge 105 del 10 agosto 2023 varato dal Governo Meloni per intervenire con urgenza anche in materia ambientale in asprendo nello specifico le pene in materia di abbandono e traffico illecito dei rifiuti, traffico di materiale radioattivo, incendi boschivi, inquinamento e disastro ambientale. È previsto per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranei un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, pena raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi. Il Governo interviene anche sul reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoreciclaggio, aggiungendo il trasferimento dei valori e alle sanzioni interdittive già previste per l'Ente, una pena pecuniaria da 250 a 600 quote. Il Governo Meloni, sottolinea parlamentare dei Fratelli d'Italia e Luca Cannata, mira così a rafforzare la tutela dell'ambiente e a punire in modo più severo chi commette reati ambientali. È nostro dovere conservare e salvaguardare il nostro patrimonio ambientale e queste misure rappresentano un passo avanti significativo nella giusta direzione. Sanzioni più severe e inaspiramento delle pene servono per scoraggiare comportamenti dannosi per l'ambiente e la salute pubblica, con particolare attenzione alla lotta alla criminalità economica e alla corruzione. Queste misure dimostrano l'impegno del nostro Governo per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire e nella creazione di un ambiente più pulito e sicuro per tutti i cittadini italiani.